La notizia era nell'aria, da Parigi è arrivata l'ufficialità, Leo Messi vince il suo ottavo pallone d'oro, nessuno come lui nella storia di questo prestigioso premio, decisivo il trionfo ai mondiali Qatar 2022 con la sua Argentina, l'unico alloro che mancava nella straordinaria carriera del 36enne fuoriclasse argentino. A Mappé invece non è bastata la tripletta in una finale di Coppa del Mondo, record che condivide con l'inglese Geo of Arts. Altre curiosità, per la serie la classe non ha età, Luca Modric, pallone d'oro 2018, nonostante i suoi 38 anni, ottiene la decima posizione. Pallone d'oro femminile trionfa Aitana Bodmati, stella del Barcellona Woman. Grazie.